Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi un video che stavate aspettando sicuramente da tantissimo tempo, infatti vi porto il tutorial sulla difesa. Come al solito sarà un video abbastanza lungo, molto dettagliato, nel quale ci andiamo ad analizzare situazione per situazione con la classica lavagnetta tattica e godetevelo fino alla fine. Prima di andare però all'analisi di quelle che sono le varie clip di gioco, ho dei scendi molto importanti su quelle che sono le impostazioni corrette per poter difendere. Quest'anno molto importante settare all'interno delle impostazioni di gioco la difesa sua avanzata, perché con la X è possibile dare delle spallate, soprattutto quando si ritrova affiancati che ti permettono di recuperare il pallone senza fare fallo, mettendo il fisico molto utili. E soprattutto ricorda un po' quella che era la difesa avanzata di inizio FC24, quindi molto forte. E vi ricordo che l'unica difesa tra l'avanzata e la tattica è solo ed esclusivamente questa qui, non c'è nessun altro tipo di differenza. Non è che con la tattica difendono meglio, con l'avanzata difendono peggio. Semplicemente con l'avanzata avete questa opportunità di schiacciare la X che diventa un tasto attivo, mentre con la difesa tattica la X sarebbe il contieni che però ormai non funziona più dai tempi di FIFA 18. Quindi ve la sconsiglio assolutamente. Unica impostazione possibile è la avanzata. Per quanto riguarda l'aiuto intercettazione ai passaggi, ovviamente sì, in maniera tale da favorire quello che recupero palla sulle linee di passaggio. Un'altra impostazione importante è quella del cambio automatico da impostare su palle alte e vaganti. Se siete ad un livello intermedio, se siete molto bravi, io in realtà vi consiglio il manuale, perché così quando voi magari siete in marcatura e il vostro avversario vi fa un lancio lungo, non avete uno switch automatico che vi potrebbe far perdere la marcatura. Molto importante è anche l'aiuto movimento cambio automatico da impostare su nessuno, per evitare che quando andiamo a switchare i nostri giocatori continuino a muoversi andando a creare poi dei varchi che non vogliamo. Il cambio della levetta destra con classico, il riferimento in base al giocatore con una sensibilità abbastanza bassa, io uso tra i due e i quattro. Il cambio prossimo giocatore o classico o più vicino alla palla a seconda di come vi trovate meglio. Un'altra cosa però molto molto importante è quella della icona del secondo giocatore che trovate qui all'interno delle impostazioni video, ovvero indicatore cambio prossimo giocatore, perché questo qui vi fa vedere qual è il giocatore che voi andate a selezionare quando schiacciate l'L1, quindi è importantissimo perché ovviamente vi regolate. Sapete che si può switchare anche con la levetta destra e in generale il consiglio che io vi do ogni anno è di switchare con l'L1 e i giocatori vicini, quindi quando vedete che con l'indicatore sapete chi andate a prendere, mentre con l'analogico destro vi andate a switchare magari i giocatori un po' più lontani. Quindi mi raccomando, tenete bene a mente, impostate questa roba qua, altrimenti già partite con dei problemini. Veniamo però adesso a quella che effettivamente è la parte più ciotta del video, ovvero come difendere le varie situazioni di gioco che ci sono quest'anno. Ebbene, sicuramente vi sarete accorti che quest'anno non è possibile sfruttare la immensa CPU, il pressing asfissiante che c'era l'anno scorso in mezzo al campo, ma questa CPU in qualche modo è stata traslata, spostata in un'altra area di campo, che è l'area di rigore stessa. Di conseguenza bisogna capire come cercare di limitare i danni in mezzo al campo, cercare di muoversi in maniera adeguata, per poi andare ad operare un recupero del pallone, che può essere sia alto che basso, però sfruttando proprio questa solidità difensiva bassa dell'area di rigore che si è venuta a creare. Partiamo da questa prima situazione di gioco. Vediamo che il mio avversario appalla nel cerchio di centrocampo con la mia retroguardia, che è quasi tutta quanta rientrata dietro la linea del pallone, e inizia a manovrare. Vedete che lui crea sulla fascia, quindi cerca di allargare il gioco come di solito si dovrebbe fare. La prima e unica cosa che voi dovete andare a fare è quella di andarvi a selezionare i giocatori offensivi per difendere. Infatti in questo caso io ho il mio esterno e lo vado a prendere portandolo uomo su uomo sul suo terzino, in maniera tale che la linea difensiva, come voi potete ben vedere, rimane assolutamente in linea. Qui c'è giusto la Rolfo che si è venuta a slegare leggermente, ma comunque nonostante il suo esterno sta andando a fare un inserimento, lei è pronta per poterlo andare a recuperare. Quindi la logica è quella di andare a prendere quanto più possibile giocatori offensivi, portarli dietro, e con questi andare a temporeggiare sulle linee di passaggio per cercare di limitare quello che è l'arrivo al ridosso della mia area di rigore. Ed è esattamente quello che io vado a fare qua, perché con la Hansen mi avvicino, poi vedo che lui rientra verso il campo, però invece di andarmi a selezionare giocatori dietro in panico, vado ad operare uno switch sul centrocampista, perché il centrocampista è un altro giocatore che mi deve dare subito una mano, ed è a presidio di questa zona dove possono esserci addirittura uno, due e tre ricevitori del pallone. Quindi il movimento che io dovrò fare con Amsic non mi interessa di andargli a marcare uomo su uomo, perché tanto io qui non ci arriverò mai, ed è già presidiato dalla Hansen questa zona. Ma quello che devo fare io è con Amsic assolutamente andarmi a selezionare questa zona di campo qui, quindi arretrando all'indietro e intercettare magari un eventuale passaggio che può arrivare da queste parti. Quindi come potete ben vedere io prendo Amsic, lo vado a portare leggermente in posizione, lo scarico arriva più vicino, vado a selezionare la Hansen e la porto un po' più interna al campo, e la transizione poi dove passa? Passa sulla Guiarro, un altro centrocampista che quindi va a operare pressione, lasciando sempre intatta, vedete qui la linea difensiva che rimane perfettamente integra. Tra l'altro questa è una situazione di gioco ideale, perché nel momento in cui noi abbiamo l'avversario di spalle è lì allora che ci possiamo rischiare un'uscita che altrimenti non va mai fatta quest'anno, perché avete visto com'è facile che magari vi parta uno speed boost che voi non vi aspettate e vi vanno in porta. Quindi qui il mio avversario continua la sua transizione, vedete, però io andando a selezionare la Guiarro, spostando lo switch su Amsic, adesso vado a riprendere la Hansen per cercare di portarla dietro e di intercettare questa eventuale linea di passaggio, Yaya Toure è sempre più chiuso e alla fine l'errore arriva perché è stato ingabbiato dai miei centrocampisti recuperando il pallone e come potete ben vedere io qui non ho toccato nessun difensore. Andiamo a vedere quest'altra situazione di gioco, ancora una volta noi abbiamo qui il suo Vinicius in possesso del pallone, avete visto che io stavo controllando la Guiarro e poi sono andato a prendere immediatamente Amsic. Nonostante qui, come potete ben vedere, la porzione di campo dove la sua giocatrice si trova è una porzione di campo aperta che potrebbe in qualche modo incentivare la mia volontà di andare a selezionare questo giocatore e uscire è un qualcosa che vi sconsiglio caldamente perché vedete che qui c'è un uno contro uno che poi si verrebbe a creare e potrebbe darvi dei problemi oppure il nostro giocatore potrebbe essere battuto da uno speed boost improvviso. Quindi anche qui che cosa vado a fare? Vedete è arrivato lo scarico sulla Buteias, io mi disinteresso completamente e continuo a seguire l'azione con Amsic. Dopodiché il passaggio arriva su Mbappé, chiaro che a questo punto non vado più a controllare i centrocampisti che sono completamente inutili perché tagliati fuori dall'azione, ma mi ritrovo comunque in una situazione favorevole se vogliamo. Devo solamente sapere come gestirla, ebbene abbiamo Mbappé che si ritrova con la mia linea di difesa praticamente piazzata. Con D è rivolto male, ma comunque può tornare indietro, ma ho i miei due difensori centrali che grazie a questo movimento fatto con i centrocampisti sono in perfetta posizione. Quindi io mi vado a prendere chiaramente il giocatore che fronteggia Mbappé, quindi la mia minaccia immediata, che in questo caso è Militao. Come devo comportarmi però con Militao? Io con Militao, in questo caso qui, avendo la mia difesa schierata, so di poterlo rischiare un intervento anche perché Mbappé, vedete, ha controllato in questa porzione di campo il pallone, però che è di spalle, quindi deve prima girarsi. E io su quel movimento lì so di avere il vantaggio e l'opportunità per poter operare un contrasto e recuperare il pallone. Però il tutto è nato da quel movimento fatto col centrocampista che non mi ha sconquassato la difesa prima del previsto, perché altrimenti il Mbappé si ritrovava con uno speed boost in campo aperto. Ancora una volta situazione, questa ancora più tipica, di manovra del nostro avversario da zona laterale che vorrebbe penetrare poi verso il centro, trova tutto chiuso e resetta l'azione da dietro. Noi che cosa andiamo a fare qui? Ancora una volta vediamo che la nostra linea difensiva è schierata perfettamente, perché quest'anno è sempre quasi così. Quindi vado a selezionarmi la Guiarro, quindi il centrocampista, qui ho Amsic, qui ho anche De Jong perché ho un centrocampo a tre con Amsic che in realtà mi fa da trequartista e inizio la mia fase di attesa prima di andare eventualmente a prendere i difensori. Con la Guiarro, vedete, lui fa il suo gioco, io tengo sempre lei, qui non vado a prendere il terzino, tengo sempre la Guiarro in una zona che può essere di interesse. Lui fa la sua manovra, io ancora con la Guiarro cerco di intercettare la linea di passaggio, qui magari mi tiro un poco su Militao giusto per fargli vedere che ho switchato da un'altra parte, ma la Guiarro è sempre lì in agguato. Lui infatti vede questo piccolo spazietto, vuole servire Mbappé, ma la Guiarro è esattamente dove io voglio che sia su questa verticale di passaggio e noi con la linea di difesa perfettamente schierata siamo andati a neutralizzare quella che poteva essere una difesa, un attacco pericoloso con una difesa efficace fatta praticamente con un solo giocatore. Vedete, Amsic è rimasto qua e De Jong è rimasto qua. Andiamo a vedere ancora un'altra transizione. Qui abbiamo sempre il nostro avversario in possesso del pallone. Vedete che qui sta partendo Vinicius in questa zona di campo laterale dove la mia tentazione primaria potrebbe essere quella di prendere il terzino che si trova qui e uscire però andando a desporre poi il difensore centrale all'uno contro uno con Mbappé che a breve vedrete a schermo però in realtà io ancora una volta mi disinteresso di tutto ciò vado a prendere la mia Guiarro, la tratto un po' come se fosse un esterno la allargo tantissimo e vado uomo su uomo quindi vado a seguire questa che è l'azione vedete che lì c'era Mbappé, la palla viene poi scaricata verso dentro io ancora una volta lascio che la mia linea difensiva si muova da solo lui va a dare questo scarico su Mbappé che però, visto che noi abbiamo mosso per bene i nostri centrocampisti trova ancora una volta la linea schierata Militao a questo punto è uomo su uomo lo seleziono e recupero il pallone due volte col contrasto nonostante avessi perso anche il rimpallo ancora situazione tipica lui qui sta manovrando con questa rete di passaggi a ridosso della mia tre quarti io prima ero con Amsic adesso ritorno nuovamente sulla Guiarro vedete che ho il mio centrocampo in linea la mia difesa in linea non ho tirato fuori i giocatori prima del tempo lui sta manovrando qui allarga la giocata però io non vado a selezionare il terzino per andare a coprire scoprendo quest'uomo qui ma bensì vado sempre a tenermi il centrocampista quindi con Amsic gli vado a tagliare la linea di corsa e vado ad aspettare quelle che sono le sue mosse vedete io con Amsic lo seguo lui torna indietro e mi recupero il pallone sempre in questo caso con il trequartista poi ancora una volta devo vincere il rimpallo perché quest'anno i rimpalli avete visto il disastro che sono qui situazione di kickoff situazione di kickoff dove di solito può esserci anche lo schema e qui vi dico per difendere lo schema tra l'altro voi indipendentemente da che vediate l'eventuale costruzione del lancio lungo o meno selezionate sempre il difensore centrale e scappatevene all'indietro onde ripeto evitare qualsiasi tipo di problema perché sti kickoff sono improvvisi però ancora una volta qui abbiamo questa palla allargata in fascia la tentazione di tanti potrebbe essere quella di prendere il terzino e uscire quindi iniziando già a scoprire la difesa che non sarebbe più formata da una linea 4 ma da una linea 3 quindi voi con il vostro centrocampista che in questo caso è De Jong andate a seguire quest'azione ancora vedete come lo porto praticamente in una posizione di esterno taglio la linea di passaggio e ancora una volta senza aver toccato neanche un difensore ho recuperato il pallone arriviamo qui in quest'altro scenario con Vinicius che si trova sull'esterno questo è il classico caso in cui va utilizzato ad esempio il raddoppio il raddoppio fondamentale che si fa con il tasto del tiro a giro qui io vedete che ho selezionato in questo momento qui Virgil perché io ho coperto la linea di corsa di Mbappé ovviamente però con il raddoppio sto mantenendo vedete con De comunque impressione sul suo Vinicius vi ricordo poi che il raddoppio magari alle volte vi può sembrare casuale però in realtà il giocatore che il gioco manda a raddoppiare è il giocatore che avete immediatamente switchato quindi vi faccio un esempio molto molto pratico se voi stavate controllando Quondé quindi il giocatore numero 1 e poi passate a controllare come potete vedere qui il giocatore numero 2 quando schiacciate l'R1 barra R2 per andare a fare il raddoppio il giocatore che manderà il gioco è esattamente quello che prima stavate controllando quindi stesso esempio se noi magari adesso dopo aver controllato Virgil che è il giocatore numero 1 andiamo per esempio a prendere De Jong che è il numero 2 se andiamo a schiacciare il raddoppio in questo caso sarà Virgil il giocatore che raddoppierà quindi tutto molto semplice tenete a mente questa piccola regoletta che di solito nella maggior parte dei casi è così qui lui con Vinicius si gira in una zona che però vedete è un po' morta perché Vinicius si ritroverebbe questo corridoio da dover attaccare Mbappé è finito in fuorigioco ci sarebbe questa linea di passaggio qui allora io capisco che è il mio momento perché lui la palla qui la deve necessariamente controllare con un atto tocco per poter uscire con Militao e andarmi a recuperare il pallone con il difensore centrale ancora una volta quest'altra situazione questa è la situazione nella quale la maggior parte di noi prende gol me compreso perché non si può essere impeccabili veramente per 90 minuti ovvero la situazione nella quale venite puntati da un giocatore X in uno spazio vuoto con lo speed boost che cosa dovete fare in questa situazione di gioco qui l'errore più comune è quello di prendere il difensore e uscire a cannone senza un minimo di logica invece la prima cosa che dovete fare come ho fatto io in un primo momento con Virgil è quella di indietreggiare come vedete qui infatti io sto con L2 sto temporeggiando aspettare il momento giusto perché poi il momento giusto arriva o per fare un contrasto o vi fate sbattere il giocatore addosso infatti lui qui con la puteglia temporeggia ancora una volta io vedo che lì c'è lo spazio per poter andare incontro al suo giocatore e fare il contrasto vado a recuperarmi il pallone quindi poi la mia azione può ripartire ancora una volta qui una situazione un po' più di contropiede dove siamo tagliati immediatamente fuori perché qui tutti i centrocampisti sono out la regola del centrocampista è una regola aurea però chiaramente l'avversario può anche prenderci in un momento in cui la nostra squadra non è schierata e noi dobbiamo essere pronti a reagire che cosa facciamo? lui la palla qui la scarica ancora una volta vedete che il mio primo movimento non è mai un movimento ad uscire ma è un movimento a concedere campo perché a me interessa darglielo voglio vedere che cosa fa però io se concedo campo poi sono pronto a recuperare quello spazio andandogli incontro infatti coquondè me ne vado all'indietro lui con la puteglia mi vorrebbe attaccare però è spaisato da questo mio movimento quindi decide di tornare indietro si gira e ancora una volta quando il giocatore è di spalle io so che lì posso aggredire perché non è una minaccia prendo il difensore centrale esco e mi vado a prendere la palla col contrasto fondamentale che schiacciate il contrasto perché altrimenti non recuperate un pallone quest'anno e anche qui la mia azione poi riparte andiamo a vedere poi quest'ultima manovra dove lui con questa costruzione palla dal cambio di gioco mi vuole attaccare sulla fascia vedete ancora una volta che io però senza andare a toccare nulla terzini eccetera rimango con il mio centrocampista centrocampista e da dietro quando il suo giocatore è di spalle vado a recuperare il pallone quindi è fondamentale ragazzi quest'anno tenere a mente tre cose la prima è quella di rientrare bene con i centrocampisti e con gli esterni e andare a fare tutta la fase di contenimento di pressione con loro e mai uscire con difensori e terzini tenendo la linea compatta il secondo suggerimento molto importante è quello di aggredire alle spalle i giocatori quando appunto vedete che si girano perché quest'anno sono molto più macchinosi dell'anno scorso ed è lì il momento che andiamo a recuperare il pallone terzo e ultimo consiglio fondamentale per gli speed boost è quello di indietreggiare e mai di uscire a cannone nell'uno contro uno perché altrimenti vi trapassano e vi vanno via in velocità ragazzi per questo video è tutto come al solito fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate se già mettevate in pratica queste piccole cosette se avete qualche altro dubbio io vi ricordo che sono in live tutti i giorni sulla piattaforma viola e non mi resta altro che augurarvi una buona giornata un suono ai vostri Beroschi e a presto ciao